Novità per i voli da e per l'aeroporto d'Abruzzo. A novembre salgono infatti a quattro i collegamenti settimanali per Torino. A dicembre torneranno poi i voli per Malta, Catania e Palermo. Intanto la stagione summer si è chiusa con dati più che soddisfacenti dal momento che da giugno ad ottobre sono transitati nello scalo aeroportuale abruzzese oltre 278 mila passeggeri. Non solo la stagione estiva ma io ritengo molto positivi anche i numeri di settembre e ottobre che denotano un trend positivo e un numero di passeggeri increscendo. Ora ci apprestiamo alla stagione autunno-inverno dove l'aeroporto d'Abruzzo ha la maggiore espansione di voli commerciali e il maggior numero di frequenza della propria storia. Siamo molto fiduciosi a tal senso anche i vettori lo sono, ad esempio vi è una frequenza in più per il mese di novembre sulla destinazione di Torino operata da Ryanair. In vista delle feste natalizie anche dell'inizio del nuovo anno avete programmato e progettato nuovi scali, nuovi voli? Nuovi voli no, vi sarà solo un collegamento temporaneo nelle festività natalizie per Palermo che coprirà l'intero periodo natalizio operato da Volotea e nel frattempo stiamo lavorando e discutendo con diversi vettori e compagnie lo coste non solo per vedere se riusciamo ad instaurare qualche nuovo collegamento. In tal senso la Regione Abruzzo ha da poco deliberato un contributo di 500 mila euro l'anno per tre annualità finalizzate al marketing turistico e collegate alle destinazioni e collegamenti aeroportuali. Non siamo tornati proprio ai numeri massimi del 2019 ma il trend è assolutamente positivo, la propensione al volo vi è, l'aeroporto d'Abruzzo è al passo con i tempi nella ripresa 2021.